Soprattutto per un'azienda come Poste, che è un'azienda che offre servizi, ha una platea enorme, 25 milioni di clienti, operando con collaboratori, persone all'interno dei Poste, che siamo il primo employer privato con 120.000 diretti e altri 60.000 indiretti. I temi di sostenibilità sono veramente correlati col successo nel lungo periodo, non solo perché questi obiettivi sono ricercati dagli investitori, dai consumatori, ma anche perché non avere un serio approccio all'assostenibilità comporterebbe dei rischi di cui è persino difficile intravedere le conseguenze. Quindi anche quando parliamo di risk appetite, il risk appetite è quello di comunque non incorrere in rischi che possano per un gruppo come nostro andare a minare quello che è il nostro valore principale, che è il trust. Poste è un'azienda che ha festeggiato ampiamente i 150 anni di vita e ha nel suo brand, nella fiducia instaurata con le persone, il suo valore più importante. Quindi credo che un tema da sottolineare è che a prescindere da quella che sarà nel tempo l'evoluzione della tassonomia, la sostenibilità è anche strettamente connessa con la gestione dei rischi, al punto tale che da noi il responsabile della sostenibilità è il chief risk officer.